Amici 22, Cerby gli dà dell'arrogante Wax sbotta, lo è, sono un artista e mi teme. Accantonata la prima puntata del serale, nella scuola di amici già si pensa alla prossima, il day time del 20 marzo. Infatti, ha aggiornato i telespettatori su quello che è successo nei giorni scorsi in casetta e dopo l'eliminazione di Megan e N.D.G. Cricca, che si vocifera si è in crisi con la fidanzata Isabel, ha detto di sentirsi fortemente a rischio perché nella sua squadra ci sono degli allievi piuttosto forti. Cerby, invece, ha lanciato un altro guanto di sfida a Wax per dimostrare che l'allievo di Arisa non è in grado di cantare bene come i suoi Aaron e Piccolo G. Il pomeridiano di amici che è andato in onda lunedì 20 marzo è iniziato con il racconto delle reazioni dei ragazzi alla doppia eliminazione della prima puntata serale, Gianmarco ha pianto pensando che non vedrà Megan per un po'. Wax si è isolato per piangere per l'amico N.D.G. In casetta, poi, alcuni titolari hanno cominciato a fantasticare su quello che accadrà durante la prossima registrazione, prevista per giovedì 23, Cricca. In particolare, si è detto certo del fatto che sarà lui il prossimo ad uscire. Sto nella M. Con chiunque vado al ballottaggio, perdo, ha riflettuto il cantante. Trovando l'appoggio di Aaron e di altri compagni. Ancora attimi di tensione nella casetta di amici, nel corso del Daitime del 20 marzo tra Wax e Aaron c'è stato un vivace scambio di frecciatine. Maria De Filippi ha letto ai ragazzi le motivazioni con le quali Rudy ha deciso di lanciare un altro guanto di sfida al cantante di Arisa, secondo il professor. Zerbi, il giovane arrogante e non accetta le critiche proprio come la sua tutor. Se il titolare della scuola si è detto pronto a preparare la prova, la sua insegnante di riferimento l'ha persuaso da questa idea. Spiegandogli che deve rifiutarla perché non deve dimostrare niente a nessuno. Arisa, in particolare, non accetta che il collega limiti il suo allievo nell'uso dell'autotune e della messa in scena, io intendo lanciare un guanto ad Aaron sulla scrittura. Loro hanno paura di te, per questo ti vogliono frenare. Devi esibirti sempre al massimo, quindi questo lo rifiutiamo. Hai ragione, lui è arrogante. Forse è vero che non so cantare, ma io sono un artista e lui mi teme, ha detto ancora il ragazzo su Rudy. Quando Wax è rientrato in casetta, Aaron gli ha chiesto insistentemente se intendeva accettare o meno il guanto di Rudy, il cantante di Arisa ha tentennato un po' e poi ha raccontato la verità. Ovvero che la sua insegnante l'ha convinto a rifiutare la prova perché non sarebbe stata equa. Tra i due allievi della scuola sono volate occhietacce e frecciatine, a riprova del fatto che sono tra i protagonisti del serale. Il 18 marzo la giuria esterna ha dato ragione ad Arisa, definendo non giusta la prova richiesta da Serbi, Cristiano Malgioglio. In particolare, ha dato del cattivo al professore che vorrebbe mettere in difficoltà Wax privandolo delle scenografie che solitamente lo accompagnano sul palco. La parte finale del pomeridiano di amici è stata dedicata alla coppia Federica Piccolo G, i due si sono un po' allontanati nell'ultimo periodo ma... Forti del sentimento che provano l'uno per l'altra da mesi, hanno deciso di appartarsi in una stanza per provare a chiarire la situazione. Dopo una lunga conversazione, tra i cantanti del cast della 22esima edizione è tornato il sereno, i telespettatori hanno potuto vedere i dolci baci che si sono scambiati in casetta dopo aver fatto pace. Tu meretate printre talea culte, incerc flow-uri sute la show-uri, uite cum rup capete lumea de din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s-a atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoista, liniștit, ci eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, parasiții, dragonul maxi, gespe. Chimie, rimaru, spike, buia, si, shwapo, grasul nimeni altu, delvede sau carpo. Tre' să vă mănânc vers cu vers card intens, tre' Tre' să vă mănânc vers cu vers card intens, tre' să vă mănânc vers cu vers card intens, tre'